Ciao bella gente e benvenuti nel mio canale Oggi sono in questo parco meraviglioso che si chiama Clut Tortugas che è lontano 15 km da casa mia Comunque, l'argomento di oggi che ho voluto condividere con voi è il fatto che ho perso 7 kg in circa un paio di mesi Non l'ho persi perché volevo mi sono capitati e quindi ho voluto condividere con voi questa informazione Dunque, ho sempre avuto problemi di salute nel corso dei miei anni da quando ero piccola, quando avevo 7 anni ho avuto problemi seri d'intestino e in frattempo ho avuto vari problemi di salute nel corso degli anni e quindi ho sempre cercato di mangiare sano di non mangiare roba fritta cose varie, cose strane ho sempre cercato di mangiare comunque bene Il fatto che durante la quarantena sono arrivata a pesare 60 kg ben 60 kg non ho mai avuto questo peso nel corso della mia vita ma mangiando una torta al giorno non è che potevo evitarlo per fortuna mi allenavo a casa facevo degli allenamenti che mi ha mantenuto più o meno il peso avevo un po' di rotolini un po' di qua, un po' di là però a me non è che mi dava fastidio perché comunque sto bene sono alta fa niente si camuffano in giro quindi non è che mi pesava tanto quello che mi pesava è la cellulite la cellulite che è veramente orribile comunque perché ora è la tensione idrica ero un po' stanca affaticata mi sentivo che avevo poca energia stavo un po' un periodo un po' così tra quel chiletto in più e tra la stanchezza un'amica mia mi ha detto ma perché non provi questo prodotto qua che ti aiuta a dare un po' di energia e ho detto vabbè dai lo provo però prima dimmi che ingredienti che ha e lei mi ha fatto vedere questa scheda dove comunque ci sono più di 25 minerali vitamine poi c'è le proteine c'è le fibre proteine vegetali ovviamente ricordiamoci vi ricordo che io sono vegetaliana e qui comunque ho detto ma sì dai lo provo perché sapendo che comunque io a casa ho sempre preso degli integratori ho preso la vitamina C che non mi manca mai a casa prendevo la spirulina che dà tanta energia prendevo la lievito in pastiglie perché va benissimo per la pelle e per i capelli non parliamo di supradine queste cose qua a basi minerali perché quando fa caldo io poi mi si abbassa tutto perché ho la pressione bassa quindi ho bisogno comunque di energia ho detto ma sì dentro un prodotto unico c'è tutte le vitamine che cerco e soprattutto le proteine c'è il ferro che io proprio sono annemica ne ho tutti io tutti ci do io comunque e quindi ho detto ma sì dai lo provo l'ho provato il primo giorno è un shaker praticamente è un smoothie io non sono abituata guarda cali non sono abituata a prendere qualcosa di questo genere al mattina io sono una da piuttosto prendo tre croissants e un cappuccino piuttosto di prendermi un smoothie oppure un niente ho detto ma sì faccio questo sforzo e vedo primo giorno mi ha dato una botta di energia e impressionante vabbè ho detto ma sì dai mi piace la prima settimana perfetto il giorno di mio riposo ho detto ma sì dai non ho voglia di stare lì a fare il shaker non lo faccio mamma mia ho notato subito la differenza il giorno dopo ho detto no no non ce la posso fare senza e quindi ho cominciato a prenderlo per un ton di tempo dopo quindicina di giorni comincio a sentirmi un po' la pancia un po' un po' piatta comincio a perdere un pochettino ma non riuscivo a capire il motivo io pensavo perché comunque ho cominciato a lavorare e ho cominciato a camminare a parte che camminavo tanto anche prima ma prima avevo anche il locale io camminavo molto di più di adesso e facevo molto più ore di adesso ma comunque la pancetta non si è mai separata da me vabbè niente un giorno dopo un mesetto ciao mami ciao bella un giorno ma si dai mi peso mi sono pesata cavolo ho visto che pesavo 55 kg ho perso 5 kg in un mese un mese 5 kg ho detto ma sarà mai che l'unica cosa che ho cambiato è il shaker lo smoothie che sto prendendo sarà mai lo smoothie vabbè allora ho cominciato a chiedere questa amica mia infatti mi ha confermato che questo prodotto non è solo da non da solo nutrizione ma anche aiuta a perdere peso ma io manco ho guardato la scatola l'unica cosa che mi interessava sono le vitamine le proteine e le fibre che aveva va bene allora ho cominciato a informarmi ho cominciato a seguire un pochettino varie informazioni di questo prodotto ho scoperto delle cose pazzesche ho scoperto che questo prodotto qua è praticamente riconosciuto in 98 paesi nel mondo come sostitutivo ai pasti quindi le persone che vogliono perdere peso però non sanno come fare non sanno come gestire la loro dieta basta che prendano questo prodotto lo prendono al mattino o al pranzo o alla cena come riescono a gestire io ad esempio non ce la farei mai a prenderlo a pranzo o a cena perché io ho bisogno di cibo ho bisogno di masticare io berlo così vabbè una sera che magari non hai voglia di cucinare o non ti va di mangiare niente allora dici vabbè faccio il shaker però io ad esempio non posso prenderlo la sera perché mi dà una botta di energia impressionante e non riesco a dormire ci ho provato e niente comunque varia da una persona all'altra comunque quando ho visto che funziona bene con me passato il mese passato il secondo mese ho perso 7 kg io non ho un filo di grasso non ho niente io non mi alleno non faccio assolutamente niente prendo solo il shaker al mattina basta e faccio la mia giornata normale mangio tutto quello che voglio mangio la pizza se mi va la sera mangio tanto pane perché io non riesco a sentire il sapore di niente senza pane quindi mangio un sacco di pane e niente quindi cosa ho fatto la prima cosa che ho deciso ho chiamato mia mamma e gli ho detto senti tu che vuoi perdere peso io ti consiglio questo prodotto qua ha cominciato a prenderlo adesso sono sono 12 giorni gli ho detto di non pesarsi assolutamente finché non passa il mese così vede veramente realmente la differenza con me è funzionato così bene perché io si vede che ho il montabolismo che brucia in barocca c'avevo il montabolismo anche prima di prenderlo ma non ho mai perso così tanto tanto grasso in poco tempo ho perso un bassa grassa cioè io sto da dio però allora che panza e che pezzetta cioè io niente adesso se riesco mi metto a fare gli addominali per una volta nella mia vita riesco a vedermi gli addominali scolpiti solo che devo avere voglia e tempo e voglia che non c'è comunque questo prodotto e ragazzi ragazzi Herbalife Formula 1 ho un prodotto fantastico meraviglioso vi lo consiglio senza pensarci due volte mi ha cambiato la vita ho tantissima energia ma allo stesso momento ho perso un sacco di massa grassa e sto benissimo perché ti dà una forza ti dà una forza di affrontare la vita di affrontare la giornata ti dà tantissima energia ma lo stesso nutrizione ti dà nutrizione al nostro corpo ti dà tutto far bisogno di proteine proteine che è il nostro corpo basato sulle proteine e vi dà tantissime fibre fibre che sono fantastici per il nostro intestino nei prossimi video se vi interessa vi parlerò delle proteine vi parlerò delle fibre vi parlerò delle vitamine cosa servono per il nostro corpo se vi interessa se vi interessa comunque mi scrivete date al vostro corpo tutto quello che ha bisogno delle vitamine delle proteine delle fibre del ferro tantissimi ingredienti che il nostro corpo ha costo di meno di 1,20 euro al giorno bisogno perché come voi come voi sapete il nostro corpo è una macchina perfetta trasmette quello che vi date se voi mangiate bene avete un corpo sano fantastico meraviglioso che non avrete problemi di nessun tipo di nessun genere mangiate male ovviamente non è che potete pretendere di avere il corpo scolpito la pelle perfetta il viso meraviglioso capelli meravigliosi che non riuscite a dare tutte le cose che ha bisogno il corpo e pretendete tanto comunque spero che vi è piaciuto il mio video per qualsiasi informazione contattatemi contattatemi vi darò vi darò tutte le informazioni che avete bisogno grazie di avermi seguito spero che questa informazione vi ha aiutato io ho voluto condividere con voi questa informazione perché veramente a me mi ha cambiato la vita e credo che lo seguirò per tutta la mia vita perché veramente finché esiste l'azienda mi ha cambiato veramente la vita comunque sono prodotti naturali al 100% niente non so cosa dire perché io sono contentissima e spero che vi ho trasmesso questa questa gioia che ho di questo prodotto che ho provato comunque io ho provato solo questo ma la realtà ci sono tantissimi altri prodotti una grandissima gamma di prodotti che servono ah mi sono dimenticata di dire che questi prodotti sono come qua certificato sono vegani ma non solo sono senza glutine e senza lattecini quindi va benissimo per le persone che hanno delle intoleranze e poi sono molto personalizzati dalle persone all'altra mamma vuoi giocare vuole giocare la mia bambina comunque vi ringrazio di avermi seguita e niente vi auguro una bellissima giornata da questo bellissimo posto io e la bambina io e Cali ciao